Non era facile sia per la defezione necessaria iniziale di Marvin sia perché appunto è una squadra comunque molto giovane ma difficile. Sì, secondo me questa è una grande vittoria di gruppo perché nonostante l'assenza di Marvin siamo riusciti tutti a dare il nostro contributo, nonostante anche un brutto primo set che ci vedeva sotto, tutti abbiamo dato il nostro e siamo riusciti combattendo fino alla fine a portare il caso di giustato che era molto importante soprattutto per il morale, per noi che comunque cerchiamo sempre tutti i giorni, ci impegniamo e quindi secondo me questa è una grande soddisfazione per tutti. Ecco, una prestazione di squadra anche perché il primo set è stato un brutto primo set, anche tecnicamente tanti errori eccetera, poi siete usciti fuori bene e nei momenti importanti siete stati sempre lucidi. Sì, il primo set nonostante tutti gli errori che abbiamo fatto si è concluso il 25-23, sicuramente siamo un po' risentiti dell'infortunio, poi dal secondo set siamo tutti in grado di ripartire perché alla fine la squadra siamo noi e potevamo farcela, infatti grazie come dico all'aiuto di tutti abbiamo combattuto e se l'abbiamo portato a casa. Classifica sempre molto molto corta quindi è importante aver avvicinato la zona alta. Sì, è importante questi tre punti che ci fanno avvicinarci, danno un po' di respira soprattutto perché adesso ci aspetto un'altra gara importante contro una delle prime quindi dovremmo dare sicuramente il massimo.